Buona fortuna. Tagliare. Per la graceful? No. Non sono così forte. Vai. Andro peschi, provo a fare bottola. In draw. E mi va bene. Eccolo qua. Allora, due di meno. Thunderdragon. Rejakeel Rack. Beh, direi che ce n'è solo uno in questo momento. che non andava a questa. Snatch. Chaos. Rejakeel Break. Va bene, ci si va in Python. Ti posso chiedere di mettere il cimitero davanti al mazzo? Ok, perfetto. Perché sennò c'è il riflesso e non si chiede di niente. La trappola era, scusami. Rejakeel Break. Ok, va bene. Ok. Lo stesso. Eh beh, vediamo qua. Vuoi tirare il dado? Si, tiro il dado. Tiro il mio stavolta. Ok. Sono quattro, giusto? Si si. L'ultima. Come vai? Scalto? Scalto io? Eccolo. Posso fare la settata. E direi che saltiamo. Un altro. Passo. Sembra il main. Qua? Si. Ecco lì. Vai. Vai. Tutto a posto. Vai Vai Main Vai Presco Upstart Vai Quando peschi Faccio raffrutturare i jacky E scarto Non lo so Attenzione Eh lo so E' scartato o riflessa? Si si Upstart 9000 I 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 45 45 Si Attivo Mano 4 8000 45 E Niente picchio Vado a 29 Passo così Tu sei a 5000 Io sono a 8000 E Solo un 8000 scritto male Non hai preso niente? Si ho preso mille di delinquen duo e ricastro più tuo Io non ho più fatto nulla giusto? 8000 8000 8000 Ah si si è vero così Scusami Ma è tranquillo E Conosco il sorcio mi sembra E' lo snatch Stile Già roba interessante Attacco per 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 14,4 4,4 Vai Vai Verso Stand by Si si Va bene Sotturatamente non è brutto 3,6 a 2,9, tu in mano hai quante carte? 3 Sinistro, Zuku e sconosciuta Guarda un attimo Esatto Sì, sì, sì Sinistro, Zuku e a 9 Sì Faccio entrare Entro e batto Tocchi? Sì 200 3,4 2 2 3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Carta in mano 4 Prova a cenare ring sull'oste Uuuu Direi proprio di 6 Pescato Eheh è andata bene Uff Vedere cosa pescavo Ma ormai ho scelto Ehm 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 Ecco ring Ho fatto malissimo Eh sì sì era proprio la chiusura Sì 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 Ci sarà qualcos'altro a compensare il karma Dice Graceful Niente spoiler Vai Adesso Due di meno Chi ricerca di nuovo il drago? Ah è giusto, già ne hai pescati due Vai Hai visto Vai Pesco Eh sì scusa Voi state giocando a 13 minuti e mezzo Due mano Due mano Due mano Stavolta lo provo io C'è di peggio Speravo fosse il malo Faccevo due team Almeno ci salutavamo Ci salutavamo Eh anche quello è forte Anche quello è forte Potrei pescare il nobiluomo Qualcosa di interessante Sì sì vai E invece Niente quella robaccia lì Non la picchio Facciamo così Scusami Scusami ho lasciato i draghi al cimitero Ah Sembrava che avessi poche carte in mano Anch'io ho detto Vieni ho fatto dei più Scusami Scusami Provo a pistolare questa Stavolta Il duo lo riprendo di meno Va bene Lo accettiamo Il duo Ci si vuole Lo accettiamo Cioè Lo accettiamo Per modo di dire Tutte e tre in mano Tutte e tre in mano Ma Mono Brown Proprio messa grave Mi infierisco pure io Sì Ciascuna dietro l'altra Eh ma sta paleggia qua Con la mano che avevo Era già finita Eh ho visto Ho visto Ho visto bene Non si sa mai Guarda Fino all'ultimo Non esulto 5 e 6 Ecco Ok Ok Il mago è un'altra Che non conosco in mano Giusto? Sì Se sei forte E' forte E' forte Molto forte Prio? No scusami Non li ho Non li Vai vai E fu una carta forte Te l'ho mostrata Mamma Non lo so Niente Quindi Non avendoli Cambio piani Vai Sai che lo so Che plus Grazie Eh con sta mano qua Che ti devo dire Prova a pesturare Il nostro set Mi piace pescare la carta Vai Quando peschi Faccio bottola Non poche carte Non pochi mostri E qua devo stare attento A non andare in endiscard Forse con questa mano qua Molto Porca puttana Non ho anche la possibilità Di prendersi il moff Direi che Ma ricordi logica Non è che ci sia tanto Ricordi logica Forse Ti toglierei Il Kiko Che è la giocata Più Più Sogna Che è in questo momento Eh sì E quindi E quindi E quindi Io adesso Assalitore Serpente Vabbè Breaker Drive Vai vai Mi ricordo Io adesso Il Sorcio Te lo avevo E mi banno E ti banno Qua E vabbè Mi fa niente Mamma mia E posso Sì 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 E lo avevo Qui in attacco Sì Vabbè Mi metto qua Vai Quando peschi Faccio Allora Direi proprio Che La Drive Si saluta Altro No 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 Vai vai Si Ti vuole effetto In catena Si Tacco il mago Così Inconfide Vabbè Certo Lo sapevi Cazzo Così era La 6 L'unica MT Scusami Visto che L'hai recuperata Bisogna aver pazienza Sto beccata La dash shot Io pirla che non ti ho attaccato Prima Quella cazzo Di Di cosa Io provo a attivare l'effetto E a bannare Il breaker E va via E passa Quanto è stato di game 1-0 Per lui Per lui Usuali non stupi. C'è. E questo... I can't qualify if more similar like yours, because I thought about the cables there. And the green is... ... ... ... ... ... Quanto stai? 7 E' entrombato? Si Tacco Oh car... Non te l'aspetti mai. Oh car... Ci sta, mi è piaciuta Main Vieni, vieni, vieni Merda L'unico mostro E tu hai in mano una carta che io non conosco al momento No, 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 dica Mi sono spettacione Tacco? Tacco 8000 Io ho perso Guarda, ho perso la punta della macchina No dai, aiuto, judge No vabbè, ho la calcolatrice No Si si dai, se riesci a mettermi anche a me vicino Mi è morto proprio il cielo Prendi? Eh beh, cosa faccio? Ah magari fai sacco anche tu Eh si, col book settato Tra l'altro se lui mi attacca, faccio sacco Lui mi fa book No, ai coaching se mi dici cosa succede No Si si si, si copre No no, lo so, lo so Ma volevo capire se... 6800 7000 6800 sei tu Sono io il 6800 Si, vai 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 Vado 5 e 6 Vado? Si Vado? Si Va bene Eh vabbè Eh vabbè Attacco Prendo 4 e 4 Spybit è troppo forte raga No Devo pescare un mostro Spybit Datevi un mostro Va bene Vai Morco Dio Continua a pescare nobili su nobili Si può dire Non si può dire Non ancora Extra bit Eh me li piglio 3 e 2 3 e 2 E setto anch'io allora vai Ohhhh Attenzione 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 Blackluster Attenzione E' entrato finalmente un mostro Bam Entra Allora Sulle vocazione Mhm Io provavo a dichiarare un segnalino No 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 Sulle vocazione tu chiedi Priu di mettere il segnalino Io non c'è no book Provo a far solenne Mille 6 Mille 6 Gli arriva sopra un segnalino Provo a spostarlo E dichiaro pari dispari Va bene eh? Sai che va bene? Assolutamente Vediamo cosa ho cercato In mind Va bene Sto cazzo cosa faccio? Mi prendo un'altra sacco Te e tacco In realtà Prova ad attivare la ring Quindi tu devi attivare un altro giudizio Ehm Direi proprio di si Vado ad 800 vita 800 A 400 Prendo 6 e 7 Si Vai Esco bene Faccio da shoot Ancora? Eh si Dio Canaglia Adesso è forte magari Chiara terza No sempre Sempre la solita Solta Ok va bene Passo Lo accetto Vuoi tagliare? Ah no ti cazzo dico io devo tagliare Quanto 800 di vita Eh vabbè Ancora 15 minuti Vado? Sì Sì Cazzo Che faccio? Tu quanto sei? Sì 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 Ti vado a 5.000 5.000 Sì 5.000 sì Esatto uno Vai Main Vai Kikos Sì Sì Proverei ad andare su Sul ragazzetto Sì Non ne ho più Vuoi che si mescolare? Come preferisci? Sì Dovresti mescolare Anche se non si guarda E tra l'altro Pesco? Passo così Sì Vado a pescare qualcosa Qualcosina dai Come qualcosina? Questo? 3-4 Vai 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 Target Entra l'evocazione Allora Il primo game è durato tipo 4-2 Carità Vado L'attivo Sì Ma ha vinto Poi tu da dopo mi ha piccato Che farà Hai visto solo quattro Hai fatto quattro Hai fatto quattro Ho ancora due volte Interessante E a un certo punto Volevo prendere certi Ma avevo un po' qualche settimana da scartare Ho trovato uno Un guaglante con Dario Sério? Sì Mi ha consigliato un paio di dash C'è il cubo Tefano Che un mostro Il test 1.500 E poi con il reparto PES Vai Vai Standby Sì Sempre in stand by Sì Su questa qui Nobberman Vaccavo Incredibile questa Sì sì Incredibile quante ero sopra E non sono riuscito a vincere Ero veramente in più 5 Più 5 Mamma mia Eh sono queste le partite belle Cioè per carità Sarebbe meglio farle al parchetto Comunque Ero troppo in più 5 Questo qua che giocava con il cubo Tefano Poi Assaltore Rapido Che guadagni Perde 485 Per ogni cammino Ed è un 2.000 In base Dico 4 Il ladro che si ha capito Ed è un Demone anche lui Però io non lo sapevo Penso che mi sembra vero di me Poi Quanto manca? Faccio veloce eh Siete 28 e 26 Poi Quindi 12 11 Ed è un Demone Ma non c'è quello di tipo Poi c'è Sì esatto Poi c'è Vabbè Il 3 Thunder Drown E poi c'è Poi Mi ha fatto vedere anche Vabbè Con un'altra dimensione E poi eventualmente La speciale Con un'altra dimensione Perché Comunque Bannisce un sacco Ehm La spec Che più mi ha fatto vedere Sì era solo La vostra distezione Sì era solo La vostra distezione Ah Non ho capito Guardate un po' Se c'è quello lì Se c'è quello lì C'è tutto C'è tutto Ponte e parte No Tanto deve cancellare già tutto Per le bestemmie Dai No Non c'è quello E No Ma tanto Io continuo a dire Dio caro E' vero che continuo a dire Di vinco ragazzi Sai che voi le ho concedetela Poi ho detto Ma dai giochiamo Me la voglio godere Anch'io volevo che me la concedessi Porca puttana che vantaggio Si ma hai pescato anche la carta giusta Mannaggia Mie che incredibile 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 Le partite le vinco la pazienza Me la sono tirata da sola Me la sono tirata da sola Me la sono tirata da sola Mi scarto sempre Drago Eh Vai mi dà cosa hai preso Oh Oh cacchio Oh cacchio Questa è forte Quella è forte Quella è forte Però meglio questi mazzi Che giocare contro barn Quelli sono Non voglio giocarlo io Maledetto No 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 Eh giù Te la taglio tre volte Così mi fai pescare però pot of greed Se me la taglio Eh vabbè Adesso la partita si può No dai Non dico niente Non dire niente Si si vai vai Dico un cacchio Vai vai Certo che se faccio ancora più scartando Mamma mia Allora conosco dei Koichi Due Thunder Dragon e basta Si esattamente Quante carte in mano sono? Sette? Sette Sette Allora sentiamo questa È difficile questa Per i giocatori di Goz Stand by main Tutto regolare Tutto regolare Tutto regolare Tutto regolare Non te l'aspettare No vabbè Dopo pot Dopo duo Graceful Eh C'è vino Devo tirarla Certo Eh si Speriamo non serpe Non serpe Non serpe Non serpe Niente serpe E sbocca E sbocca E sbocca E niente serpe Che cazzo la gioco È impossibile Beh sicuramente inizio a scartare anche questo Parlando di te E questa E questa Vabbè Sono carte quindi Le altre che ti rimangono comunque Sono belle carte Cosa mi dai di meglio? Puoi pescarci uno Magari peschi due di meno Eh grazie Questa Non avresti scartato forse il sorcio se l'avessi avuta prima Eh vabbè Lo accetto È il gioco Quindi adesso tu hai due draghi che conosco l'altra non conosco niente Spercio io Non faccio niente risposta Tutto Non faccio niente risposta Ok Per$ iconic Ok, clicco, vedo 3200, 4800, banni penso late and dark, no dai scegli te, ma intanto vabbè. Vanno dark e non so se giochi la sepo, non credo proprio, ma nel dubbio questi. Va bene, ok. Passo. Pesco, stai bene, fai qualcosa? No. Snatchelim? Snatchlocal. Quante carte hai ma... 3. Conosco cosa? Thunder, 1x. Vai. Pesco. Guardo un attimo il C. Quanto sto di vita? Quattro e otto? Quattro e otto? Quattro e otto. Sì, sì, va bene. Tacco. 3000. Attivo l'effetto. Sì, sì, sì. Vai. Pesco. Entro. Pesco dei coici. Pesco dei coici. Vai. Pesco dei coici. Dessolo. Pesco dels coici. Mio. È una limiana, la settemilio. E uno. Tre. E uno. Abbiamo tantifichato talht. Un po' di... 3.000 io? 3.000 e batto carta in mano? 3 passo bella ho pescato proprio tutto veramente mi spiaggia non potevo farci niente non potevo proprio farci nulla dai che si va in top si si io faccio così entra anche tu